Del domani che sarà? Del domani non c'è certezza, diceva un poeta mio corregionale. E l'incertezza del domani è la preoccupazione di tanti. E credo che sia una preoccupazione che viene instillata continuamente, pensando a un domani catastrofico, pensando che si mettono oggi le basi per una rovina sicura che andando per questa strada noi raggiungeremo. Gesù ci parla della provvidenza e ne parla in termini molto semplici, molto naturali, come non poteva non parlare a quei tempi. Oggi si parlerebbe in maniera più tecnologici, però non credo che la tecnologia abbia migliorato la situazione. Anzi, lo sviluppo ha anche degli aspetti negativi che debbano essere sottolineati. Ma allora in che cosa, dove appoggiare il nostro futuro? Non certo sulle cose. Gesù c'ha dell'umorismo su questo punto, quando scherza su colui che aveva ampliato i propri granai, perché ormai poteva andare a letto tranquillo, con tutta questa sicurezza per il futuro. Stupido, stanotte ti sarà presa la vita. Signore scherza addirittura sulla cosa, le cose sono effimere. E poi, le cose mica ci garantiscono la vita. Il Papa ama dire che il sudario non ha tasche, quindi non ci si porta dietro niente. E allora da dove viene questa sicurezza? Sicuramente la sicurezza viene dalla provvidenza di Dio a cui affidarsi, ma la provvidenza di Dio che ci assicura le cose materiali indispensabili è sempre da coniugare insieme a un'altra realtà, la prudenza. È la prudenza dell'uomo la mano della provvidenza di Dio. È l'attenzione dell'uomo ai fratelli di cui si serve la provvidenza per provvedere e servire tutti i suoi figli. Cari amici, credo che se tutti ci guardassimo intorno e cercassimo di essere provvidenza per tutti coloro che hanno bisogno, ci dimenticheremmo di pensare al domani. E saremmo talmente presi dall'oggi e dalla carità dell'oggi da vivere realmente il mistero della provvidenza di Dio e sentire che addirittura, come noi siamo sicurezza per gli altri, Dio diventa profonda sicurezza per noi. Buona domenica. Grazie. 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 Grazie.